Mentre tutta la classe politica locale è in ansia per i risultati elettorali delle amministrative ad oggi fermi al vaglio della commissione prefettizia insediata da martedì a Palazzo e Città, c'è qualcuno tra i candidati al Consiglio Comunale che timidamente festeggia la possibile conquista dello scranno in aula consigliare. Si tratta dei potenziali primi classificati nelle varie liste che per un verso o per un altro dovrebbero essere relativamente sicuri dell'elezione. Dati sicuramente provvisori ma che comunque consentono di fare una prima analisi. Chi non dovrebbe ad esempio vedere insediato il suo primato è Angelo Caci candidato con la lista lega Cosentino Sindaco che avrebbe raggiunto il condizionale sempre d'obbligo il risultato record di circa 1400 preferenze, un margine di voti che gli regalerebbe un seggio sicuro in Consiglio Comunale. Rientra con molta probabilità in Consiglio anche Giuseppe Guastella alla sua terza consigliatura di fila. Anche per lui salvo sorprese un patrimonio di circa 800 voti garantirebbe il primo posto nella lista moderati rinnova e quindi l'elezione. Tra chi non si ferma neanche un giro mantenendo lo scranno che ha avuto nella consigliatura appena passata c'è ad esempio il Dem Gaetano Orlando che dalle proiezioni appare abbastanza saldo davanti al compagno di partito Giuseppe Fava e anche Gabriele Pellegrino che pur non replicando il boom di voti della passata tornata elettorale si conquista comunque il primato nella lista di Avantigela e ritorna in aula. Ma al Consiglio ritorna anche chi ha saltato un giro come ad esempio Sara Cavallo consigliera comunale durante la sindacatura messinese che oggi risulterebbe prima in Fratelli d'Italia. Antonino Biundo già consigliere Dem Sicilia Futura è oggi molto probabilmente primo degli eletti in Forza Italia e Paolo Caffà che ritorna in consiglio invece dopo diversi anni a rappresentare il laboratorio politico per Dimiguel Donegani. Sul treno degli esordienti assoluti salgono l'ex presidente del comitato di quartiere Massimiliano Giorrannello che si conquista una sorprendente prima piazza in una buona idea, Antonella Di Benedetto prima della lista Scerra Sindaco che sorpassa diversi big del voto, Armando Irti il più votato nella lista LDC e Alberto Zappietro in Italia Viva. Completa la pattuglia dei volti nuovi il giovanissimo Vincenzo Tomasi che al suo esordio con il Movimento 5 Stelle sembrerebbe essere il più votato anche se nel suo caso il margine dalla seconda piazza è un po' più stretto. Naturalmente si tratta solo di dati ufficiosi raccolti durante lo spoglio complicato di lunedì scorso. I dati ufficiali verranno fuori solo dopo che si sarà concluso il lavoro della commissione prefettizia che dovrebbe andare avanti ancora per qualche giorno. Solo allora avremo la geografia completa e veritiera del nuovo consiglio comunale e non è detto che non possano esserci altre sorprese.